Ferrari potrà effettivamente lottare per i costruttori? E ragazzoli e ragazzuole benvenuti in questo nuovo video, io sono Tancredi, come avete letto dal titolo oggi andremo a fare i nostri pronostici, già so che me ne pentirò, per la stagione 2024 di Formula 1 sono finiti i test quindi prendetela con le pinze come classifica, so già che andrà malissimo ma bando alle ciance iniziamo subito, sarà una classifica un po' diversa, tutti quanti di solito la fanno dal pilota più basso al pilota più alto, io la faccio un po' diversa, prendo i team costruttori e poi assegno una posizione per ogni pilota quindi partiamo subito, all'ultima posizione non posso che mettere la AS e ragazzi inutile dirvi che con tutti i cambiamenti che ha avuto la AS in questo periodo con anche Steiner che è andato via, succederà un casino e quindi Magnussen ventesimo e Nico Ilkenberg Nico Ilkenberg diciottesimo, non penso possano fare più di così alla nona posizione metto la Williams con Sergiant diciannovesimo io penso che l'anno scorso ho già fatto vedere grandi difficoltà da rookie non credo che quest'anno possa fare di meglio quindi purtroppo questo Albon invece lo metto in quindicesima posizione l'anno scorso ha fatto tanti tanti punti era tredicesimo se non sbaglio, si lo sto leggendo qui con 27 punti l'unico a aver portato in alto la squadra e credo che lo farà pure quest'anno qualche posizione in meno perché ve lo dirò fra pochissimo c'è una squadra in particolare che secondo me è da tenere d'occhio in ottava posizione metto la tagliata di carne no vabbè sto scherzando la Steak F1 Team o come si chiama con Guan Yu Zhu in diciassettesima posizione e Bottas sedicesimo ho visto qualche ripresa per questa squadra nei test in particolar modo sul passo gara ma non credo possono fare più di così ecco questo poi andando avanti metto l'Alpin con Gasly quattordicesimo e Ocon tredicesimo l'anno scorso Gasly aveva battuto Ocon rispettivamente undicesimo e dodicesimo secondo me quest'anno Ocon potrebbe prendersi una bella rivincita sul compagno di squadra anche se onestamente parlando l'Alpin non credo che stia facendo chissà quale grande lavoro poi mi potrò sbagliare ma dai test insomma non è andata benissimo in sesta, quinta, quarta, terza, seconda, prima sì, avevamo perso il conto in sesta posizione la Racing Bulls la squadra che secondo me sarà una rivelazione quest'anno con Yuki Tsunada dodicesimo e Ricciardo l'ho messo ben decimo sembra andare molto 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 forte anche dopo il finale di stagione fatto l'anno scorso secondo me potrebbero essere due piloti con una squadra e una macchina simile alla Red Bull ma secondo me andranno molto molto forte andando avanti Aston Martin ebbene sì, Stroll undicesimo e Alonso nono non credo sia un Aston simile o quantomeno che possa fare un inizio di stagione come quello dell'anno scorso potrei sbagliarmi penso che però non sarà così spero per Alonso di no vedremo adesso si va sulla parte un po' più succulenta della classifica anzi tra l'altro se vedete uno sfondo un po' diverso è quella medaglia perché sono tornato giusto un paio di giorni fa dalla fantastica esperienza che ho fatto con Sky grazie Sky se stavi vedendo questo video ancora vi ringrazio vabbè nei miei social verticali vi ho messo tutto e di più quindi ritornando al nostro discorso quarta io metto la Mercedes ebbene sì con Russell VIII ed Hamilton VI una Mercedes che secondo me non ha convinto così tanto da questi test anche il fatto che abbiamo già parlato nello scorso video che vi invito ad andare a vedere se non l'avete ancora fatto c'è il fatto che Hamilton se ne sia andato a favore della Ferrari non mi convince tantissimo secondo me è come se lui avesse capito che qualcosa non va e appunto è passato in Ferrari però posizione questa da prendere con le pinze perché secondo me se la lotterà alla pari con McLaren per cui ho messo Norris Vinto e Piastri VII lotta serrata con Mercedes non lo so McLaren secondo me avrà qualcosa in più The Test pure ha convinto un po' sul passo gara non a livelli di Ferrari Red Bull stranamente ora ne parleremo ma sembra aver convinto soprattutto dopo il finale di stagione dell'anno scorso e appunto ci ha insegnato che si può ribaltare un campionato e una macchina in praticamente pochi mesi al secondo posto ebbene si metto la Ferrari volevate la Red Bull invece no e con Leclerc lo metto in seconda posizione Sainz terzo adesso giustifico questa scelta macchina secondo me fatta molto più verso Leclerc con l'avvio di Sainz come sappiamo purtroppo vabbè arriva a Hamilton non so mi piace ma infatti nello scorso video non vi ho chiesto se mi andava bene la scelta di Hamilton al posto di Sainz vabbè quindi riprendendo le parole di Vanzini non so se avete visto il suo video Ferrari potrà effettivamente lottare per i costruttori questa è una domanda a cui è difficile rispondere secondo me sì anche se l'ho messa in seconda posizione c'è da dire che potrebbe effettivamente giocarsi il titolo costruttore di quest'anno non lo so io non mi voglio illudere quindi la metto comunque in seconda posizione perché sono già passati troppi anni con false speranze quindi in prima posizione ovviamente la dominatrice di tutti la Max Bull no vabbè la Red Bull ovviamente con Verstappen primo credo sia abbastanza chiaro ma Perez lo metto in quarta posizione non lo so qualcosa mi dice che Perez soprattutto avendo visto i test un po' più in difficoltà ragazzi comunque una Red Bull è chiaro che la domanda è sempre quella è una Max Bull come ho detto prima o effettivamente la macchina che fa la differenza io credo che sia proprio la macchina insieme al pilota Verstappen che fa la differenza ma basterà quest'anno l'anno scorso Verstappen vincerà il campionato costruttore anche da solo quest'anno come finirà non lo so quindi vedremo io per non ripeto per non dare false speranze metto la Ferrari in seconda posizione quindi metto qui un riassunto dei pronostici e tutto quanto tra l'altro andate per questa prima gara in Bahrain gli impanzini siamo stati molto molto fiduciosi vi rimando al video passate nei miei social verticali e niente quindi con questo per questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale attivare le notifiche attivate quelle notifiche maledetto YouTube condividere con tutti gli amici mettere un mi piace e niente questo vi ringrazio vi saluto è stato un piacere noi ci vediamo al prossimo video soprattutto negli shorts ciao